Lo scorso fine settimana si è concluso il festival del documentario Sguardi sul Reale che ha riscosso, in questa sua sesta edizione, un grande successo coinvolgendo molte delle associazioni presenti nel nostro territorio e questo fine settimana si chiuderà la stagione teatrale. Ci aspettano due appuntamenti, questo fine settimana, venerdì abbiamo l'Accademia Barocca che farà un concerto, che si svolgerà però alla Sala del Consiglio, sarà un concerto molto particolare e quindi era necessario uno spazio diverso dall'auditorium, più grande e quindi si svolgerà all'Aula Consigliare. Mentre domenica, sempre all'auditorium, ci sarà invece lo spettacolo teatrale Cavalieri di Aristofane, a cura di Canterstrasse. Domenica 26 aprile alle 21.15 all'auditorium Le Fornaci andrà in scena lo spettacolo I Cavalieri di Aristofane con il quale si chiuderà la stagione teatrale per dare il via agli eventi estivi che il Comune di Terra Nuova propone ogni anno. È una produzione interna nostra, Canterstrasse, con la regia di Fulvio Cateruccio in scena ci saremo appunto lo stesso Fulvio Cateruccio, Simone Martini e Alessio Martinoli. Diciamo che questa volta siamo andati ad affrontare per questo nuovo lavoro il classico, il classico assoluto che è la commedia greca. È una delle commedie diciamo meno conosciute di Aristofane e parla dello stato della politica ai tempi appunto di Aristofane. Quindi già duemila anni fa gli scrittori, il popolo si interrogava sulla difficoltà di avere una classe politica, una classe dirigente libera dalle tentazioni.